Ed eccoci ancora in onda con oltre le differenze, purtroppo però per l'ultima parte di questa puntata. Che si fa, Oriana? Beh, chiamiamo al microfono l'alla perché è il momento dello scaffale, quindi dei suggerimenti per la lettura a tema LGBT. Visto che in questa puntata abbiamo parlato di inchieste e sondaggi, credo che non ci sia occasione migliore per consigliare ai nostri ascoltatori un libro che è stato pubblicato per la prima volta addirittura nel 1991 e che poi è diventato nel corso degli anni una pietra miliare per gli omosessuali italiani. Ora il suo autore lo ripubblica a distanza di 20 anni dalla sua prima uscita con una nuova prefazione per capire cosa sia cambiato e cosa no. Sto parlando di Ragazzi che amano ragazzi, 1991-2011, di Pier Giorgio Paterlini, edito da Feltrinelli ed uscito appunto nella sua edizione aggiornata nel febbraio del 2012 con due nuovi testi dell'autore. Si tratta di una raccolta di interviste a giovani omosessuali italiane che ha avuto appunto otto edizioni e che è stato ampliato con l'inserimento di lettere e testimonianze raccolte dopo la prima pubblicazione. Il libro con gli anni è diventato un punto fermo della presa di coscienza della comunità omosessuale italiana passando di mano in mano tra migliaia di ragazzi e ragazze. È un vero e proprio viaggio nelle storie di giovani, nel rapporto con la società e con la famiglia. Primo ambiente dove esprimersi alla ricerca di sé di una propria autodeterminazione sessuale ed è un libro che risulta ancora oggi più che mai attuale rivolto a tutti coloro che non soltanto omosessuali abbiano ruoli e funzioni nella nostra società contemporanea. Mi riferisco per esempio ad insegnanti, educatori, datori di lavoro, genitori ma soprattutto ai ragazzi che si trovano a vivere o condividere queste situazioni. La domanda che ci pone il libro tuttavia ci deve far riflettere molto ed è come è possibile che i ragazzi più giovani di queste pagine affermino che storie di un'Italia di vent'anni fa sono ancora le loro. Significa che il poco e il tanto che è cambiato non basta. Quindi i ragazzi che amano ragazzi ci rimanda oggi l'immagine di tutta l'arretratezza e l'incivile crudeltà di questo nostro immobile paese. Benissimo Lalla e grazie, adesso scopriamo cosa ci consiglia invece la Rory. Un film, un documentario a tema con l'argomento trattato oggi o qualche novità che solo lei può aver scovato? Oggi pomeriggio vi suggerisco un film inedito che è stato premiato alla 27esima edizione del Torino GLBT Film Festival. Finalmente vince nella sezione lungometraggi un film prima di tutto bello e che troverà sicuramente una distribuzione italiana. Sto parlando di A Novella de Zoet di Odino Roja. La pellicola racconta i terribili giorni del Brasile dell'anno 1978 quando imperversava ancora la dittatura militare e la libertà democratica era solo un miraggio. Nonostante però la repressione politica il paese si ritrova investito dalla febbre del sabato sera che sta dilagando in tutto il mondo grazie alla sopopera delle Otto ambientata nella discoteca di Rio de Janeiro e che porta il nome di Dancing Day. Se non sbaglio i personaggi del film che si muovono in questo clima di oppressione sono molti e grazie ad una sceneggiatura abilmente scritta le loro storie si intrecceranno. Sì, c'è Dora, una donna in fuga da se stessa. C'è una prostituta che per colpa della stessa Dora si ritrova coinvolta in un intrigo da rivoluzionaria. C'è un feroce poliziotto, un 17enne gay che vive con i nonni e che ha voglia di scoprire il mondo e un diplomatico dell'ONU che scopre la sua omosessualità ritornando a casa dopo aver vissuto anni a Londra. La novela desoit è un intenso melodramma che mescola con furbizia, comicità e tragedia e ci si ritrova a ridere proprio in quelle scene che richiederebbero solo lacrime. Il film vuole essere, e credetemi ci riesce, un omaggio alla libertà dell'uomo che può e deve sempre scegliere cosa essere e cosa fare della propria vita perché la vita non è una telenovela. Oh, e ringraziamo anche la Rory e adesso aprite le agendine perché come di consueto stiamo per suggerirvi alcuni appuntamenti che riguardano a vario titolo il mondo LGBTQ. Ci avviciniamo ad un giorno importante e lo ricordiamo il 17 maggio la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia e tante città italiane stanno organizzando iniziative ed eventi di vario genere per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema come ad esempio i colori dell'amore la rassegna cunese contro l'omofobia organizzata da Arcigai Cuneo che ha un ricco programma di eventi artistici, culturali e momenti di approfondimento. Si comincia sabato 5 maggio con letture teatrali a cura dell'associazione Voci Erranti Onlus per gli studenti di alcune scuole superiori per continuare nei giorni successivi con spettacoli teatrali, proiezioni di film e dibattiti. Vi segnaliamo in particolare quello di venerdì 18 maggio con Don Franco Barbero che è stato anche ai nostri microfoni qualche tempo fa. Trovate tutto il programma completo sul sito arcigai.it nella sezione 20. E per restare un po' più vicini a noi invece sabato 12 maggio a Grosseto a Gedo Toscana presenta Amori ed Intorni un'intera giornata di sensibilizzazione sulle tematiche delle realtà LGBTQI che si terrà nel centro storico di Grosseto. Alle 9 di mattina si terrà un incontro con studenti ed insegnanti poi per tutto il giorno saranno allestiti gazebo in piazza Alighieri con esposizione di varie forme artistiche sul tema amore ed intorni. Dalle 16.30 presso il Palazzo della Provincia si terrà poi la presentazione del libro Omofobia strumenti di analisi e di intervento con l'autrice dottoressa Margherita Graia. E infine alle 21 sarà proiettato il film Due volte genitori e sarà presente anche la presidente nazionale di Agedo Rita De Santis. E bravi gli amici di Grosseto si sono dati un gran bel da fare direi. Prima di salutarci però vi segnaliamo che Rete Genitori Rainbow presenta il primo seminario per genitori omosessuali Dire non dire Figlie, figli e coming out Il seminario è dedicato a madri e padri omosessuali e a loro partner per lavorare sui temi legati al coming out e su ciò che può impedire una comunicazione buona e fluida con i figli per comprendere l'importanza della coerenza dell'ascolto, della chiarezza e della sincerità. Il seminario è ideato e condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Daniela Ciriello che vanta una lunga esperienza nel campo dell'omosessualità femminile e maschile si svolgerà in due mezze giornate sabato 19 e domenica 20 maggio a Roma presso il Circolo Mario Mieli Per info e prenotazioni scrivete a seminari-genitori-rainbow.it E noi la prossima settimana continueremo a segnalarvi le iniziative e gli appuntamenti delle associazioni in occasione della giornata contro l'omo e transfobia Esatto, siamo arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione anche oggi che eccezionalmente è sabato e siamo in onda appunto sulle frequenze di Antenna Radio S Se voi però continuate a seguirci venerdì prossimo perché torniamo in vostra compagnia inviateci le vostre segnalazioni oppure prenotatevi per lasciare un messaggio nella nostra segreteria telefonica dillo a oltre Vi ricordo i recapiti Noi vi salutiamo e vi ricordiamo l'appuntamento per la prossima settimana Oltre le differenze torna come di consueto al solito orario dopo le 21 il venerdì ma anche il sabato in replica alle 15 sempre sulle frequenze di Antenna Radio S ormai le conoscete già oppure in diretta online su antennaradios.it per andare tutti insieme Oltre le differenze Oltre le differenze alla radio si parla di omosessualità ai dintorni una finestra sul mondo arcobaleno Ah però tutti i venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S Oltre le differenze